Io vedo che qui vengono con la maschera e fuori stanno senza. È tranquillo, rispettano. Sicuramente sempre, quando entrano indossano sempre la mascherina, si comportano correttamente come da decreto. I clienti cercano di rispettare le regole, magari i più giovani fanno più fatica, anche per via del caldo, eccetera. Però grazie alla nostra sicurezza e alla nostra buona volontà, le cose stanno andando nella sua direzione. Dipende, ci sono persone che entrano senza la mascherina, bisogna chiedere che la mettano. Altre persone che invece sono l'Ige e entrano già con la mascherina, tanti sono convinti che ci sia libertà assoluta. Non abbiamo notato una differenza, anzi devo dire che ci sono molte persone che ancora in modo precauzionale la utilizzano anche all'esterno, soprattutto se passeggiano, se ci sono persone. Io ho visto che comunque questa cosa, ormai ci siamo abituati.